è tornato da le crociate tuo padre per quello ma vai anche a gas ma com'è che si chiama mio padre? speriamo che non abbia lasciato il telefono sul tavolo se no deve saltare per prenderlo Tato ma che sono in diretto, non chiamarmi fagiolo Tato senti papà non li senti loro e non ci credono che tu a 18 anni hai vinto Mister Italia di muscoli, non di bellezza mi mandi per favore le foto così gliela metto nel culo chiedi a tua moglie di mandarmi le foto per favore che gliela metto nel culo te la mando io adesso la trovo io sei capace? sai come funziona? mongoloidi ho detto che me la manda con una mongolfiera no 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 perché? perché? ciao Tantani ma ho capito ma è un modo di dire ma è un'altra generazione immagino che a luglio abbia vinto Mister Fireplay e...